Per quelle volte eravamo tutte bene, come avevamo detto, io sto preparando questa lettera molto complicata, questa relazione in merito a quella di attivazione della cava che ti dicevano, quella di che aveva abbandonato, la c'hai usato, che purtroppo... Allora io ci ho pensato un po' ieri, perché dopo come curato, ci ho pensato un po', penso che rispondi in un modo di lasciarti molto libero come il comune. Madonna, ma tu sei mai venuto? Ma che bene nato? No, vediamo adesso! Te la sto motivando proprio tutti i dettagli, come elaborati dalle gaffe che dispiego questi treni, praticamente hanno abbandonato questo terreno a sopravvivare, hanno messo nei guai, lasciando in una situazione compromette, questo vuole fare poi il caro del cuore, però dice che mi costa totte milioni, no? Quante faccio i miei guai, mi costa 300 mila euro, dare nemmeno la possibilità di completare quella poca cosa che è rimasta... Sì, vieni... Pronto? Sì, no, Massimo! Massimo, come stai? Bene, bene, bene... Sì... Senti, allora che mi dici? Tu? Io ieri ho fatto quello che dovevo fare... Sì, ti ho chiamato, sì... Sì, ti ho sentito, ci ho parlato, io ieri mi sono incontrato delle persone e sto andando avanti su queste cose, ho due o tre, diciamo, occasioni e sto mettendo in piedi la cosa, ecco... Sì, quindi vedrai che tutto andrà di primi dell'anno, potremmo, diciamo, spero, adesso operativi, capito? Benissimo, va benissimo... Eh, credi... L'altra cosa, l'ho messa a film, ma adesso il direttore non c'è stato in questi giorni, perché sono impegnati sempre da una parte e dall'altra... Però, guarda... Poi giorno più, giorno meno, su, non ti preoccupare... Sì, sì, no, 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 va bene, se ci riuscivamo a rinascettinare, capito? Eh, lo so, lo so... Eh, se no... Va bene... Va bene, dai, l'importante è che... Ok, via... Va bene, allora, ci sentiamo, perché magari ci facevamo l'augurio di Natale prima... Eh, va bene, va bene... Eh, va bene... Ci lo facciamo dopo, dai, ci facciamo gli auguri del buon anno, dai... Va bene... Bene... Ok... Ok, un abbraccio... Anche la mattina, Massimo, grazie... Ciao, ciao... Io e Usai, andiamo... Stiamo giù, come la... Ormai si definirà a gennaio questa cosa... Di quell'altra, di inoltre, quella lì è... Eh, c'è un dirigente che non voleva sperare diversamente le cose... ti ho messo un po' a paura perché ci abbiamo avuto un paio di ricorsi da parte di alcune situazioni che dice no no questo devo ripartire la cava nuova eccetera ma io voglio la faccio digerire, ormai ne parliamo di anno nuovo però dopo casomai te dico io quello che facciamo ufficialmente è un'altra strategia a preoccupare, no 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 ma stiamo fuori da te e stiamo preoccupando le pregne qua riconenciamo la cava? no 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 non scherzavo, noi facciamo quello che facciamo purtroppo ti caga tutto o non caga tutto nel massimo che togliamo? ti capo non contigo io nessuno di questa cosa capito non c'è mai di anni ma io lo so soprattutto proprio per questo no? non hanno cambiato le cose no? mi mettiamo in piedi la situazione che possono recuperare tutto eh certo magari non andiamo a cercare i problemi ma cercare i problemi ci sono anche una situazione fatta pure cercare di risolvere i problemi no? è certo è certo è certo ci complichiamo vabbè l'importante è che riusciamo a di sistemare la nostra cosa no comunque c'è ovviamente poi ti dico io come facciamo va bene va bene